Ciao a tutti, mini tutorial su di una Google App molto semplice da utilizzare, si chiama Meet, serve per incontrare delle persone, solitamente lo si utilizza molto per lavoro, ci clicchiamo sopra, qua adesso abbiamo fissa la mia immagine relativa al mio Google Account, se ci clicco sopra va ad inquadrarmi, oppure volendo posso anche capovolgere la fotocamera o ancora di più andare a far vedere tutto quello che ho sul telefono, posso creare un nuovo meeting in basso a sinistra o posso raggiungere un meeting già preesistente, posso unirmi a un meeting già preesistente se mi viene fornito il codice. Adesso non faremo la trasmissione di Meet perché stiamo registrando con un altro software, comunque sia per farlo partire dobbiamo fare New Meeting, quindi quello in basso a sinistra, ed aggiungere dei conversatori piuttosto che dei colleghi, sarebbe interessante poterlo fare ad esempio con dei colleghi di dipartimento piuttosto che persone che non sono riuscite a raggiungerci ad esempio in un consiglio di classe. E' chiaramente soltanto un'idea che non sostituirebbe affatto gli incontri fisici ma potrebbe essere un bel aiuto, caso mai ci fossero dei problemi improvvisi. Ciao a tutti, spero che vi sia servito.